In questo periodo di pandemia siamo stati quasi obbligati a diventare primariamente operatori sociali, ma dobbiamo rientrare sempre nella formazione in modo che ogni credente si ricordi che è compito di ognuno non delegare ma interessarsi. Queste le parole del Vescovo Armando, giovedì 11 novembre alla conferenza stampa di presentazione del report Caritas, Povertà e Risorse. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo direttore di Caritas di Ocesana, Ettore Fusaro, e il vice Lucio Diotallevi. A introdurre la mattinata moderata da Michela Pagnini, Don Michele Giardini, presidente della fondazione Caritas Fano, che ha ringraziato il precedente direttore Angelo Farnetti per il lavoro svolto. La parola poi al nuovo direttore Ettore Fusaro in collegamento online dall'Albania. Questi numeri sono frutto di ascolti e di incontri e un report, ha sottolineato, che vuole cercare di essere strumento di sinodo per la nostra chiesa e che vuole da oggi in avanti essere non solo report di ascolto, ma luogo dove riportare anche cosa pensano e dicono di noi. Stefania Poeta, responsabile dell'area promozione umana Caritas di Ocesana, ha illustrato in sintesi il report. Il lockdown ha messo in evidenza la poeta e le continue restrizioni hanno ridotto notevolmente la nostra capacità di apertura in presenza. Abbiamo stravolto, come tutti, i nostri servizi attivando la modalità dell'ascolto telefonico, che tuttora abbiamo mantenuto per alcune situazioni, dei contatti via WhatsApp e SMS che invece erano del tutto occasionali. In aumento le difficoltà dei giovani è aumentato anche il numero di interventi medi a persona. In aumento anche i passi della mensa sostengo, agosto 2020, quasi triplicati, le attività del Centro Salute Caritas per visite inderogabili, orientamento alla salute, distribuzione di farmaci, supervisione a persone positive e non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Le problematiche strutturali che necessitano di un intervento strategico, primo fra tutti il problema abitativo, che porta in sé molto di più del bisogno di una collocazione fisica, ma di un nuovo modo di pensare all'abitare inteso come diritto prioritario di ogni essere umano.